Ciao a tutti amici di Avora Magazine quest'oggi andiamo a parlare dell'applicazione AnyDoo AnyDoo è un'applicazione per gestire le cose da fare, quindi promemoria e devo dire che a mio parere è una delle migliori che ho trovato su Android allora, questa è la schermata principale come vedete si potrà scrivere qui su in alto un nuovo promemoria quindi ad esempio fare la spesa la mettiamo, come vedete vengono anche già i suggerimenti possiamo cliccare su fare la spesa e clicchiamo su aggiungi come vedete verrà aggiunta alla lista di cose da fare viene automaticamente aggiunta al giorno di oggi, quindi today però noi volendo possiamo andare a prenderla e spostarla domani, questa settimana o ancora più tardi quindi come vedete possiamo gestire la cosa una volta inserita l'azione da completare possiamo ad esempio cliccare su questa azione per far venire fuori le opzioni possiamo metterci una priorità quindi come vedete comparirà una strisciata rossa sulla sinistra qui quindi segnalerà le azioni con più priorità possiamo andare ad aggiungerla in una cartella quindi possiamo mettere nella cartella personale nella cartella lavoro ad esempio oppure creare una nuova cartella possiamo aggiungere un reminder che come vedete si aprirà questa bellissima schermata dove possiamo mettere l'allarme quando e il giorno che vogliamo e anche con la suoneria possiamo aggiungerci delle note quindi magari fare la spesa e qua mettiamo comprare latte latte ad esempio comprare latte vediamo comprare come scrivo comprare caffè e così via aggiungiamo ok una volta che abbiamo completato l'inserimento delle note come vedete una volta cliccato su fare la spesa comparirà note con il simbolino 2 che starà a indicare se ci sono note appunto presenti e poi c'è un utilissimo pulsante share che ci permetterà di condividere questo task quindi questa questa prememoria questa azione con altre persone come vedete ne possiamo inserire il nome di un contatto e lui andrà automaticamente a controllare se questa persona ha installato l'applicazione AnyDo se ce l'ha installata comparirà come vedete Any.do sotto al contatto e sarà possibile andare a condividere direttamente a questa persona la sua applicazione questo task se non avesse l'applicazione AnyDo potremo inviargli un messaggio via email quindi comunque si riuscirà a condividere la cosa una volta che abbiamo completato l'azione da fare basterà semplicemente fare uno slide sopra all'azione e come vedete comparirà una linea che andrà a cancellare appunto questa azione per segnalare che è stata completata facciamo ad esempio anche su questo e quindi volendo possiamo andare a poi cancellare con la X questa azione in modo da non vederle più essendo finite se magari abbiamo tante azioni che abbiamo completato ed è un po' noioso andare a cliccare sulla X per cancellarle tutte basterà agitare il telefono vediamo se mi prende eccolo qua basterà agitare il telefono e possiamo andare a cancellare tutte le azioni che abbiamo completato cosa molto molto utile cosa altrettanto utile è la possibilità di sincronizzare adesso in questo caso non me lo fa più impostare però alla prima volta che si clicca sync si può impostare sincronizzare con i task di google quindi praticamente se noi inseriamo all'interno di questa applicazione dei pre-memoria da fare delle azioni da fare cliccando su sync queste verranno automaticamente sincronizzate anche con quelle di google quindi cosa molto molto importante bene l'applicazione è questa qua molto semplice però secondo me è veramente una delle migliori finora trovate come vedete qua ci sono tutti i vari tutorial possiamo anche mettere il tema nero quindi nero con scritta bianca però sinceramente preferisco l'altro un po' più semplice eccolo qua dicevo questa qua secondo me è una delle applicazioni migliori innanzitutto perché è gratuita quindi è disponibile gratuitamente su Android Market e poi perché avete visto è molto molto semplice da utilizzare ma molto funzionale ci permetterà di condividere le azioni con altre persone ci permetterà di spostare il giorno in cui vogliamo eseguire questa azione e abilitare molte opzioni come ad esempio il reminder o le note bene detto questo io vi saluto mi sembra di aver detto tutto e noi ci risentiamo alla prossima recensione ciao a tutti